Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo un nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo alle prestazioni, quindi migliorare così le prestazioni grazie al gestore PC Microsoft, quindi Microsoft PC Manager, che ti aiuta a pulire le cache, file temporanee, migliorare così la RAM e soprattutto fare anche una scansione sul PC per vedere se c'è qualche minaccia sul tuo Windows. Ovviamente per quelli che hanno problemi a scaricare questo gestore del PC Microsoft, su Microsoft Store puoi sempre scaricarlo normalmente su siti esterni come questo, vai su scarica, lo scarico per forza da qui, l'ho scaricato e l'ho installato senza problemi sul PC ed eccolo qua. Quindi una volta scaricato ci clicchi sopra, ti ho lasciato il link in descrizione per scaricare il programma, ovviamente poi uscirà così il setup di Microsoft, quindi vai su installa, accettiamo e installa. E lo avviamo. Ovviamente ecco il nostro PC Manager, potenzia così le performance del tuo PC, file temporanee li cancelli, migliori così la RAM, qui puoi direttamente fare una scansione sul tuo PC e vedere se ci sono qualità e file temporanee, altri file che non ti servono, puoi anche toglierli e eliminarli. Oppure vai sul storage, questo qua del tuo disco e puoi fare anche una pulizia sul tuo disco. Selezioni così, come puoi vedere file temporanee, Microsoft Defender, pure i vecchi aggiornamenti di Windows Update, le cache, eccolo qua e fai il processo. 315 MB, 140 MB li ho tolti così dal mio disco. Torno indietro. Poi ci sono tutte le applicazioni che sono aperte sul tuo PC, quindi puoi chiuderle da qui. Come puoi vedere tutte queste applicazioni, io per esempio ho Creative Cloud, posso anche chiuderlo, non mi serve. Chiudo pure questo. E basta. Pure Chrome, beh, OBS Studio, questo qua invece. Torno indietro e poi ci sono pure le applicazioni che si avviano quando accendi il PC. Quindi, per esempio, questi sono i servizi, tutti i programmi che mi si avviano quando accendo così il PC. Quindi scelgo cosa e quale applicazioni non si devono avviare. E poi c'è la security. Fai una scansione così sul tuo PC per fare, cioè una scansione per vedere se ci sono minacce sul tuo sistema. Ed eccolo qua. Risultato e analisi di Microsoft Defender, non c'è niente, non ha trovato nulla di difettoso sul mio computer. Se c'era qualcosa di minaccioso, bastava direttamente fare procedi e ti cancellava direttamente quella minaccia. Ed eccolo qua. Ovviamente è un piccolo programma che ti aiuta a velocizzare un po' le performance sul tuo PC. Se in questo caso stai laggando, per esempio, i file temporanei qua sopra ci sono 5-6 giga e stai laggando in un gioco o su qualche applicazione. Tu basta che premi il boost e in un paio di secondi poi riprenderà a funzionare quell'applicazione e il gioco senza nessun lag. Quindi ti consiglio veramente di scaricare questa applicazione del PC Manager. Io la uso sempre, tutti i giorni. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come migliorare così le performance grazie al PC Manager, iscriviti, lascia like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.